Sold out al Ditella di Vasto Girardi per assistere all'ultima di campionato. I gialloblu agguerriti nella prima frazione di gioco erano consapevoli di dover vincere per salvarsi, ma così non è andata. Alla decimo buia da il via all'azione innesca guida che, visto l'inserimento di Guadalupi, decide di passare al compagno. Il numero 4 non inquadra lo specchio della porta, è pronto a recuperare Alagia, ma viene atterrato in malo modo da Natale. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e rigore per i padroni di casa. Sul dischetto capitano Ruggeri che segna il gol del vantaggio 1-0. Minuto 13 il bomber di casa brucia un'occasione gol e come vedremo più avanti nel servizio non solo questa. Al diciottesimo tiro dall'angolo di Guadalupi a pizzicare la testa di Acunzo che sfiora il palo. Dopo due minuti sulla bandierina c'è ancora Guadalupi. Montuori prova ad bucare la rete di testa, lo anticipa a Natale e la palla sbatte sulla traversa. Al ventitresimo l'avversario si fa vedere. De Gidio si invola verso la porta avversaria ma di Stasi mura l'azione. Pochi secondi e l'avversario ci riprova. Il tentativo è di Sparvoli, di Stasi respinge. Siamo al quarantaduesimo e il vasto Girardi potrebbe segnare ancora. Guadalupi mette in moto guida che però non trova in là. Parte il secondo tempo sulle immagini di Francesco Di Rienzo. All'ottavo della ripresa Mazzeo commette fallo in aria su Ludovici e penalty. Sul dischetto Emili che non sbaglia e gonfia la rete alle spalle di di Stasi 1-1. All'undicesimo Emili mette in mezzo per Colisidi. Non si fa cogliere in preparato di Stasi. Corre il ventiduesimo fallo di Sparvoli su secondo a gioco lontano per il signor Simone Gavini della sezione di Aprilia e il rosso diretto. Cartellino inizialmente assegnato a San Severino. L'arbitro poi dopo aver consultato il secondo assistente si ravvede ed espelle il numero 11. Al ventiseiesimo Alagia apre sull'altra fascia per guida che cincischia troppo. Va in suo aiuto lo stesso Alagia ma l'azione si spegne. Al ventinovesimo Prodezza di di Stasi degidio dalla distanza tenta il tiro. Rispinge il numero 1 giallo-blu sui piedi di Emili ma anche questa volta non passa lo straniero. Al trentanovesimo Alagia prova a prendere in mano la situazione ma viene murato da Natale. Il tiro di rimpallo del numero 11 finisce sul fondo. Siamo sul finire del match e il Vasto Girardi trema sul tiro di Pulsoni. Ma è nel recupero che il Vasto Girardi dice addio alla salvezza. Guida sotto rete non tira ma apre per Prado il cui tiro termina direttamente tra le braccia del portiere. Al tripice fischio il pubblico applaude comunque i calciatori ma l'amaro in bocca resta. Domenica prossima al Ditella il Vasto Girardi dovrà affrontare ancora una volta il Castelnuovo per i play-out. La mia squadra è stata presente sempre in campo anche se abbiamo preso il gol subito che ci può stare. Però già da subito dopo il gol abbiamo ripreso a giocare, a costruire azioni pericolose, a creare occasioni da gol. Penso che il pareggio l'avremmo meritato già nel primo tempo per quello che abbiamo creato. Poi nel secondo tempo nel miglior momento nostro c'è stata quell'espulsione che ci ha un po' penalizzati. Non sappiamo ancora nemmeno il perché. Anche in dieci pur soffrendo naturalmente perché è un pareggio che magari non fa bene a nessuna delle due. Però penso che anche la vittoria dell'una nell'altra sarebbe stata lo stesso. Solo in caso di vittoria nostra sarebbe cambiato il fatto che magari il Vasto Girardi sarebbe venuto da noi. Però è una bella partita tra due squadre che vogliono rimanere in questa categoria. Noi ne usciamo belli rafforzati nel morale perché siamo consci di aver messo in grande difficoltà il Vasto Girardi. Domenica torneremo qui a cercare di fare bene e di cambiare solo esclusivamente il risultato. Mister, quanto ha inciso moralmente il rosso diretto? Non tanto moralmente, più che altro perché stavamo alzando i ritmi. Il Vasto Girardi era un po' in difficoltà. Stavamo creando, ci è stato annullato un gol, non so neanche perché. Avevamo creato altre opportunità, quindi era nel miglior momento nostro. Poi è normale che in dieci diventa tutto più difficile, anche se la mia squadra ci ha creduto fino alla fine. Devo fare i complimenti a questi ragazzi che sono molto giovani, tra l'altro ogni domenica giochiamo 6-7 fuori quota e stanno dimostrando di essere dei veterani e sono molto orgoglioso di loro. Adesso prepariamo questa settimana nel miglior modo possibile e ci veniamo a giocare alle nostre carte qui domenica prossima. Mister, come giustamente ha detto lei, ci sarà un replay domenica prossima e ci sarà, insomma, a tutti gli effetti. Voi continuerete a dare testa al Vasto Girardi. Ma quanto potrebbe incidere il fattore campo e se potrebbe incidere? Abbiamo giocato oggi e per quanto ci riguarda ci ha inciso poco perché la squadra è venuta qui con personalità a fare la sua partita. L'ha fatta bene, l'ha fatta con personalità, l'ha fatta con determinazione, l'ha fatta con voglia, non ha assolutamente sentito pur ci sia stata una bella cornice di pubblico, però la squadra con personalità ha fatto la sua partita, non ha subito niente ed è convinta, esce rafforzata da questa partita perché è convinta di poter creare dei veri problemi al Vasto Girardi. E forse ancora presto per chiederle questa cosa, ma lei ha già in mente di cambiare qualcosa nella formazione tecnica? No, in questo momento non ci penso assolutamente, sicuramente Sparvoli non ci sarà, spero di recuperare Terrenzio che è il nostro difensore centrale, il nostro capitano in mezzo all'area, di avere più uomini a disposizione possibile per venirmi a giocare tutte le mie carte.